Un cordiale saluto agli amici di Trebimeteo da Stefania Cattano, vediamo insieme come andrà questo venerdì 27 febbraio in Europa, ancora maltempo alle latitudini alte europee con nevicate anche a quote basse in Scandinavia. L'anticiclone dell'Azzorra invece si avvicina all'Europa occidentale, mentre nell'Europa centrale e nell'Italia abbiamo ancora di atmosfera un po' instabile, ne vedremo infatti tra poco. La punto di vista termico, le temperature massime sono particolarmente miti alle latitudini mediterranee con punte fino a 15 gradi. Per quanto riguarda l'Italia, vi accennavo a quest'atmosfera instabile ancora al sud e sulle isole maggiori, mentre altrove abbiamo una situazione decisamente migliore. Dal punto di vista termico, minime senza grosse variazioni, piuttosto basse al nord, le massime sono stazionarie, un locale aumento invece con valori compresi tra i 9 e i 14 gradi. Entrando nel consueto zoom del nord Italia, vediamo tornano un po' di nuvole più compatte sui rilevi alpini, con finali con locali nevicate sui 700-1000 metri, ma altrove abbiamo anche spazi ampi soleggiati, in particolare sulle pianure. Tempo invece al centro del nostro stivale, generalmente soleggiato, a parte un po' di nubi sulla fascia adriatica, ma con schiarite anche qui dal pomeriggio sera. Al sud ancora spiccata instabilità, ve lo accennavo prima, con piogge e rovesci diffusi, non mancheranno però ampi spazi soleggiati proprio tra un acquazzone e l'altro. Aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com Grazie. Grazie.